Sporco, sconveniente, irritante, incazzato, magari qualche risasto, ma senza peni sulla lingua, se per quella che è in testa. Mi sono messo via, sì mi sono messo via, mi sono chiuso nello scabuzzi, come una cosa inutile, perché diciamoci la verità, siamo tutti inutili. L'importante è prenderne atto, però da qui vi dico delle cose. Benvenuti a Sporco, il vlog inutile. Punto uno, una istituzione credibile c'era rimasta in questo paese e stiamo facendo di tutto per mandare a puttane anche quella, la presidenza della Repubblica. Oddio, a dire il vero, credibile, che poi, per dircela tutta fino in fondo, a noi non cambia nulla, cioè un nuovo presidente non è che ci cambia la vita, ma chiunque sia. Tanto funziona così, per i primi sei mesi avrà tutti gli occhi addosso e un sacco di critiche, nessun presidente della Repubblica è stato eletto e amato dal giorno dopo. Poi lo vedremo una volta l'anno, quando ci fa il suo bel discorso di Capodanno, ovviamente il giorno dopo, plausi bipartisan. E poi, a un anno dalla fine del mandato, diventa un padre della patria, per favore un altro mandato, il miglior presidente della storia d'Italia e vale per tutti. Facciamo un passo indietro. Pertini, forse il più amato presidente della Repubblica, all'inizio non era amato da tutti e vale anche per tutti gli altri. Quindi, non abbiate paura di Silvio. Fra sette anni sarà un padre della patria a cui chiederemo un altro mandato. Novak Djokovic, numero uno al mondo del tennis. Novak, Novak. Da Novak a Novaks il passo è brevissimo. Praticamente è diventato il nuovo messia dei Novaks. Il padre ha proprio detto, mio figlio è come Gesù. Resta da capire la potenza della seconda palla di servizio di Gesù Cristo, ma io mi fido. Quindi, di fatto, Djokovic è il nuovo emblema dei Novaks. Chissà Povia che incazzatura. E sì, povero Povia, perché uno ci perde tanto tempo, si va a cercare tutti i disagiati della rete e li raggruppa uno per uno. Poi ti arriva un Djokovic qualunque e ti ruba il posto di leader. E comunque, continuiamo a parlare ancora di questo benedetto Covid. Non riusciamo a lasciarcelo alle spalle in nessun modo. C'è, esiste. Abbiamo più o meno imparato a conviverci, mettiamo le mascherine, detto tra noi alcuni sono anche decisamente migliorati, però non riusciamo a parlare d'altro. Tamponi su tamponi, file chilometriche, la scuola, mica la scuola. Però io solo una cosa voglio sapere. Ma se l'80% delle terapie intensive sono occupate da gente che non ha fatto il vaccino, quando sono una piccola parte della popolazione, cazzo, è aritmetica questa! Ma io faccio il comico? Oh, e me lo fate notare, eh? Perché ogni volta che scrivo qualcosa, eh, ma fai il comico, non rompere i coglioni! Ma che cazzo vuol dire? Allora uno che fa l'idraulico deve fare sempre l'idraulico. E su Facebook può scrivere solo cose di tubi, raccordi e canapa? E se uno fa il ginecologo può parlare solo di figa? Te lo immagini il pranzo di Natale? Come hai trovato le mie lasagne, tesoro? Le lasagne sono ottime, mamma. È la tua vulva che mi preoccupa. Sì, lo so, dovrei fare come tutti, pubblicare gattini. Pubblica i gattini, pubblica i gattini, pubblica i gattini. E poi basta dividersi in due schieramenti netti. Io ho fatto tre dosi. AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Aspetto la quarta col NovoVax. Cielo, 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 manca. Tanto secondo me l'hanno chiamato NovoVax. Vabbè, marketing, alla grande. Dicevamo, io ho tre dosi, quindi sono un ProVax. Però Draghi mi sta sul cazzo lo stesso. A me Draghi ricorda uno di quei nerd di Cobra Kai. Non so se l'avete vista la serie. Cioè, se non l'avete vista la dovete guardare. Che siccome tutti li picchiano, si iscrivono nella palestra più cazzuta della città per imparare a fare il karate e rompere il culo a tutti. Lui l'ha fatto iscrivendosi a Economia. Però il senso è più o meno lo stesso. Vi faccio un esempio personale? Vi faccio un esempio personale. Il governo precedente, e non lo nomino perché altrimenti mi creo delle antipatie, Conte, 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 aveva sì chiuso i teatri. Aveva sì chiuso i locali di spettacolo. Però due euro ce li ha fatti arrivare. Draghi invece è più furbo. Ha studiato Economia. Economia. Infatti economizza. I teatri li lascia aperti. La gente non ci va. E noi non prendiamo un euro. Economia. Senza contare che tutta questa situazione, sì, va bene, sarà anche colpa dei Novax, però i tagli alla sanità non li hanno mica fatti loro. Sono confuso. Lo ammetto. È per quello che mi sono messo via. È per quello che mi sono chiuso qui. Perché non voglio più sentire. Non voglio più vedere. Ma continuo a parlare. Però ogni tanto vengo fuori per andare a fare gli spettacoli dal vivo. Perché alla fine io quello so fare. E allora vi aspetto il 16 gennaio a Milano alla Scighiera e il 29 gennaio al Teatro Q77 di Torino. Ovviamente ci vuole il Super Saiyan Green Pass Volpe a nove code e la mascherina FF V2. V2! Coincidenze? Io non credo. Alla prossima. Sporco.